Chi segue questo canale sa quanto mi piace fare questi video, qua non si parla di opinioni, non si parla di teorie strane, di quello che sta succedendo negli ultimi capitoli, no, qua si parla di lore, cioè si mette sul piatto tutto quello che sappiamo di certi personaggi, in particolare oggi mi concentrerò sul passato di tutti gli imperatori. Ah, e qua ci divertiamo, perché bene o male sappiamo quasi tutto dei vari background di alcuni imperatori, almeno quelli che ci hanno lasciato, e poche cose invece di quelli attuali, che ci fa intuire che magari avremmo altre cose, e mettere le informazioni sul piatto comunque serve sempre per poi ragionare per il futuro. Io dico sempre che in un'opera grande come One Piece, giustamente a volte i lettori si dimenticano delle cose, però questo canale serve anche insomma per rinfrescare la memoria a volte, e oggi proprio ci addentriamo nella storia degli imperatori. Quindi ragazzi, siamo pronti a cominciare, ve l'avevo detto che nella settimana di pausa avremmo ritirato fuori questo format. Prima di cominciare ragazzi, vi voglio ricordare una cosa per me molto importante, ovvero che il giorno 10 maggio al Teatro Metropolitan a Catania si terrà il One Piece Music Symphony 3. Un evento rarissimo per l'Italia, quindi molto figo ragazzi, non ve lo perdete. Infatti al Teatro Metropolitan, in una cornice fighissima, un'orchestra sinfonica suonerà le soundtrack del nostro amato One Piece, quindi non vi perdete quest'occasione. L'evento è in collaborazione con Toei Animations Italia, e come dico sempre alla fine di queste sponsorizzazioni, è un evento importante, perché se Toei Animations vede che l'Italia è bella accesa, bella attiva per One Piece, magari portiamo anche altre cose in futuro, sempre legate a questo manga meraviglioso. Fatevi sentire, trovate in descrizione il link per i biglietti, ce ne sono ancora un po', quindi andate a vedere anche quale posizione volete acquistare per vedere al meglio quest'opera incredibile, fidatevi, lo spettacolo sarà molto molto figo, ripeto, link in descrizione, non mancate. Shanks ovviamente è il primo personaggio di cui vi voglio parlare in questo video. Shanks nasce 39 anni fa, quindi 39 anni prima dei giorni presenti, ok, e nasce teoricamente nel mare dell'Ovest. Con le cose nuove che noi conosciamo di Shanks, di cui andremo a parlare, può essere che questa informazione verrà debancata in qualche modo, o verrà arricchita, o verrà modificata, però è un'informazione canonica, ufficiale. Nasce 39 anni fa, e 38 anni fa viene trovato dalla ciurma di Roger all'interno di uno scrigno dopo gli eventi di God Valley. Ancora oggi però non sappiamo come Shanks sia finito all'interno di quello scrigno. Ovviamente, questo lo ripeto, sono informazioni che appartengono al volumetto chiamato Four Billion, che era questo volumetto distribuito in Giappone per presentare One Piece Film Red, ma sono informazioni canoniche, quindi io ve le devo dire. Questa è una cosa ufficiale. Per tutta la sua gioventù ha partecipato, insieme al suo compagno, amatissimo compagno Buggy, alle avventure della ciurma di Roger, e quindi sappiamo bene o male quello che è successo. Ha semplicemente seguito il capitano come mozzo slash apprendista, ricevendo anche in regalo il famosissimo cappello di paglia. E quindi sappiamo bene o male quello che è successo con la ciurma di Roger. A un certo punto, una cosa particolare che io vi devo sottolineare, dopo la visita dei pirati di Roger a Laugh Tale, in cui lasciano indietro solo ed esclusivamente proprio i due apprendisti Shanks e Buggy, che guarda caso oggi corrono per il titolo di re dei pirati, Roger dice qualcosa a Shanks, qualcosa che fa piangere tantissimo il ragazzo. Poco dopo Roger viene giustiziato e vedremo anche Shanks durante, diciamo, la morte del suo benamato capitano. 22 anni fa, inoltre, vediamo che Shanks inizia a reclutare vari membri della sua ciurma, in particolare quello che sembra essere il suo primo vero membro della ciurma, ovvero Yasopp. In quel periodo lì, teoricamente, Shanks dovrebbe iniziare a diventare il rivale di un altro pirata molto importante, vicino alla figura di un altro imperatore, ovvero Miok. Quindi, in poche parole, durante la sua prima carriera da pirata. Io escluderei, in realtà, quegli anni che vanno dalla morte di Roger a, in realtà, quando Shanks è ancora un po' un giovanotto. Secondo me, quando Roger era ancora vivo, Shanks non aveva ancora incontrato Miok, perché altrimenti i combattimenti sarebbero stati diversi. Secondo me, infatti, Shanks ha incontrato e rivaleggiato Miok quando era ancora giovane, quando la ciurma si stava ancora formando bene. Ma sappiamo che circa 13 anni fa, Shanks e i suoi pirati, che ci sono già formati con la ciurma, che tra l'altro è ancora attuale, che arrivano sull'isola di Dom, dove incontrano Luffy e ci sono tutti gli eventi che conosciamo di Romance Dom, quindi del primissimo capitolo di One Piece, in cui Shanks perde il braccio. Da lì in poi, come poi citerà lo stesso Miok quando si rincontreranno dopo molti anni, per Miok non ha più senso combattere contro Shanks. Quindi per questo anche vi dicevo che secondo me la loro rivalità è in quegli anni lì. Della carriera di Shanks da pirata, prima dei giorni nostri non sappiamo quasi nulla. Ci sono delle informazioni che riguardano One Piece Film Red, ma queste teoricamente sono esclusive del film. Io ve le cito soltanto. L'anno dopo aver visitato l'isola di Dawn, quindi dopo essere salpati, e dopo aver partecipato a una sorta di incidente sappiamo che la taglia di Shanks si aggira intorno al miliardo, proprio in quel periodo lì. Quindi già comunque quando era un pirata giovane la sua taglia era molto alta. Ora siamo abituati a vedere la taglia degli imperatori come una taglia estremamente più alta. Difatti la taglia di Shanks supera adesso i 4 miliardi, ma una taglia da un miliardo, ragazzi, per un pirata è comunque una taglia gigantesca. Cioè cerchiamo di ricordarci anche questo. Durante la storia corrente Shanks in realtà si è fatto vedere pochissime volte. Le poche volte in cui si è fatto vedere, semplicemente abbiamo visto che sembra cercare di mantenere la pace e sembra essere un personaggio che va a mediare con diverse parti. Questa cosa succede due volte in particolare. Succede con Barba Bianca nel pre-timeskip, in cui vuole parlare di un ex pirata di Barba Bianca, ovviamente parliamo di Teach, e poi quando va a parlare con Igor Osei due anni dopo, quindi praticamente nella timeline corrente, nell'anno corrente di One Piece, in cui va a parlare di un certo pirata. Essendo che queste due scene sembrano essere parallele, in molti pensano che il certo pirata di cui vuole parlare Shanks sia proprio Teach, esattamente come ha fatto, con Barba Bianca. Il che è plausibile, alcuni pensano sia Luffy, plausibilissimo, anche quello non vi darò la mia opinione, perché per me possono essere entrambi. Semplicemente vedremo che cosa ci faranno vedere. Un'altra informazione, l'ultimissima del passato di Shanks, deriva sempre da One Piece Film Red, però teoricamente questa è un'informazione canonica, perché viene citata anche all'interno del volumetto, se non erro, ovvero che Shanks fa parte di un clan, il clan Feigarland, un clan molto importante dei nobili mondiali. Viene fatto intendere quello, e poi nel canone noi vediamo un membro di questo clan, che è Garling, personaggio che un pochino, diciamolo, ci assomiglia a Shanks, personaggio anziano, membro appunto dei cavalieri sacri. E questo è tutto quello che sappiamo sulla storia di Shanks. Cosa interessante da capire, se veramente fa parte dei nobili mondiali, perché Oda in passato ci ha dato l'informazione del mare dell'Ovest. Vedremo se comunque la debancherà in questo modo. Tra l'altro, l'ultima cosa che voglio dire, visto che è vicino ai giorni nostri come informazione, il fatto che Garling e Shanks condividono il cognome, il che potrebbe essere strano per alcuni, noi abbiamo visto Garling da giovane. È identico a Shanks. Fine, ok? Quindi direi di passare tranquillamente al prossimo imperatore. Big Mom è il prossimo pirata di cui dobbiamo parlare. Big Mom nasce da una famiglia di umani, normali. Per qualche motivo però, probabilmente una sorta di sindrome, non saprei come definirla, Big Mom cresce a dismisura. In moltissimi fatti la scambiano per un gigante, anche se in realtà è semplicemente un'umana. E quindi i suoi genitori, con un inganno, la fidano a madre Carmel, che semplicemente è una donna che accurisce degli orfani, per poi in realtà addestrarli e venderli al governo mondiale. Lin Lin ovviamente sembra essere un asset molto promettente, perché oltre ad essere una bambina gigante, è anche estremamente forte. La sua forza verrà dimostrata ad Elbaf, perché la base di madre Carmel è proprio ad Elbaf, l'isola dei giganti. A un certo punto ad Elbaf, durante il sostizio d'inverno, c'è una festa lunga 12 giorni. Lin Lin proprio lì avrà un attacco di fame e quindi inizierà a distruggere tutto, distruggendo anche le ossa di diversi giganti. Ovviamente arriverà nella situazione uno dei giganti più importanti, ovvero Jorul, che è un gigante importantissimo, uno dei membri fondatori dei pirati, dei giganti, quella ovviamente il clan, la ciurma antica, non quella attuale, in cui ci sono, c'è Arjudin insomma, la ciurma che appartiene alla flotta dei Mugiwara, che verrà fatalmente ferito proprio dalla piccola Lin Lin. Dopo appunto aver calmato la ragazza, madre Carmel e tutta la sua squadra, la sua cerchia di ragazzini, dovranno andarsene via da Elbaf. Proprio mentre se ne andranno via, per festeggiare Lin Lin, a un certo punto organizzeranno un banchetto e Lin Lin viene presa di nuovo dalla fame. In una scena che viene un po' nascosta all'interno del manga e dell'anime di One Piece, Lin Lin, quando riapre gli occhi dopo aver mangiato, non trova più i suoi amici e in qualche modo scopre di avere gli stessi identici poteri di madre Carmel. Questo per farci intuire che molto probabilmente Lin Lin si è mangiata i suoi amici e sembra che mangiandosi anche madre Carmel abbia proprio assorbito anche i poteri del suo frutto del diavolo. Il Soru Soru, non mi, un frutto del diavolo che permette di avere un certo controllo sulla propria anima e anche su quella altrui. Beh, questo potere è anche molto utile per animare oggetti inanimati. In questa disperazione Big Mom incontrerà Streusen, cuoco grazie al suo frutto, cucucucono mi, e anche ex pirata, che la farà entrare, tra virgolette, nel mondo dei pirati. Big Mom diventa una piratessa da molto molto giovane, con una taglia iniziale già da 50 milioni, che poi diventerà di 500 milioni poco dopo in realtà. All'età di 24 anni sappiamo che Big Mom era all'interno dei pirati di Rocks, ha fatto parte di quella ciurma di Galatticos della pirateria, e poi ha anche partecipato alla loro sconfitta, perché effettivamente vediamo che i Rocks vengono sconfitti durante gli eventi di God Valley contro la ciurma di Roger. Big Mom all'epoca era già madre, di fatti Big Mom ha avuto in totale 43 mariti e 85 figli nell'arco di 42 anni. Il sogno di Big Mom era quello di avere una terra compresi tutti gli abitanti, tutti i membri di tutte le tribù e razze del mondo. L'unica cosa, l'unica razza a cui non è riuscita a mettere le mani, su cui non è riuscita a mettere le mani Big Mom è proprio quella dei giganti, cosa che l'ha sempre fatta dannare. Ovviamente i giganti hanno sempre portato molto rancore verso Big Mom per quello che era successo una quarantina di anni fa, ovvero la morte di Jorul e comunque la distruzione di parte di Elbaf. Big Mom in realtà ha una storia abbastanza semplice, a parte tutto il discorso di Madre Carmel e in più noi abbiamo visto un buon flashback di Big Mom, oserei dire che Big Mom è il membro degli imperatori su cui abbiamo più cose chiare, nel senso che il flashback di Big Mom è molto molto chiaro, ovviamente manca tutta la parte dei rocks, ma questa è la storia di Big Mom. Kaido è uno dei personaggi più interessanti in assoluto, purtroppo il flashback di Kaido è durato molto meno rispetto a quello di Big Mom, però delle informazioni ce le abbiamo. Kaido nasce 59 anni fa nella Grand Line in un'isola chiamata Bodka Kingdom. Credo che questo riferimento sia palese perché comunque Kaido è sempre stato un personaggio molto legato nel bene o nel male all'alcol e quindi nasce da Vodka Kingdom, ci sta. Nonostante Kaido sia di stratura gigantesca un po' come Lilline, nonostante abbia delle corna, quindi su questo c'è poco da dire, non abbiamo mai avuto nessuna informazione sulla sua vera razza. Però, comunque, da quello che abbiamo visto con Big Mom, un essere umano può raggiungere delle grandezze stratosferiche anche se è un semplice essere umano, le corna rimangono un mistero. Su questo si è dibattuto molto, non sappiamo nulla, sappiamo che anche da bambino aveva queste corna e addirittura noi vediamo che Kaido all'età di dieci anni era già un soldato, il più promettente in assoluto del suo regno, regno che lo utilizzò per combattere contro altre isole, saccheggiarle e avere abbastanza soldi da entrare a far parte delle grazie del governo mondiale. All'età di tredici anni Kaido inizia un po' a non sopportare l'essere un giovane soldato e il re pensa effettivamente che cosa deve farne di lui e decide di vendere al governo mondiale per entrare a far parte del reverie. Cosa che non succede perché Kaido ovviamente riesce a scappare dalla nave in cui viene impigionato guadagnandosi direttamente la sua prima taglia una taglia di 70 milioni. Poco dopo due anni dopo quindi dai tredici ai quindici non sappiamo bene o male niente probabilmente Kaido ha vissuto una sua vita da pirata Kaido si trova da Cinosu appunto l'isola dei pirati ed entra a far parte della shurma di Roxx per poco tempo perché poi verranno sconfitti proprio a God Valley proprio a God Valley Kaido metterà le mani sul frutto Uo Uo No Mi modello serio quindi il frutto del drago il drago orientale comunque il frutto che noi conosciamo essere proprio caratteristico di Kaido che gli verrà donato da Big Mom che lo strapperà dalle mani di Ivankov durante questi anni in realtà non sappiamo che cosa succede esattamente Kaido sappiamo che viene imprigionato diverse volte un totale di 18 anche se viene spiegato brevemente ci viene fatto intuire che Kaido non è che viene sconfitto e catturato Kaido sembra soprattutto che da giovane si facesse catturare apposta per poter mangiare essendo comunque che era un giovane scappato di casa in tutti i sensi per poi rifuggire quando era riuscito a mangiare insomma e comunque qualsiasi pena di morte non ha mai funzionato contro di lui circa 33 anni fa inizia a costruire la sua ciurma scappando da uno dei centri del governo mondiale e conoscendo il suo primo compagno ovvero King 28 anni fa quindi 5 anni dopo arriva un membro del clan Kurozumi che gli offre tutto il piano per conquistare soggiogare Wano e quindi iniziare a costruire delle fabbriche di armi proprio sul territorio dell'isola ci riesce 23 anni fa abbiamo un altro evento molto importante per la vita di Kaido ovvero lo scontro di Gekkomoria un pirata emergente che semplicemente voleva fare strada e si si incontrò proprio sfortunatamente per lui contro un imperatore del calibro di Kaido proprio a Wano dove verrà sconfitta dove tutta la sua ciurma verrà completamente annichilita 20 anni fa un altro evento molto importante per quanto riguarda Kaido invece affronta e incontra Oden sappiamo tutti come è andata a finire ovviamente Kaido vince con uno stratagemmo ovviamente dei Kurozumi però vince e poi rimarrà praticamente regnante incontrastato insieme tra virgolette a Orochi per i 20 anni successivi di quei 20 anni sappiamo poco sappiamo che teoricamente proprio in quegli anni più o meno anzi un po' prima in realtà però già quando doveva essere arrivato a Wano nasce Yamato non sappiamo assolutamente di chi fosse figlia Yamato di chi sia figlia Yamato perché Yamato è ancora viva in realtà però a un certo punto ha una figlia basta quei 20 anni lì sono un po' misteriosi non succede praticamente nulla solo che Kaido diventa imperatore cerca di arrivare a Marineford due anni fa ma viene fermato bloccato da Shanks in qualche modo anche qui non sappiamo come è successo questa cosa ma è successa abbiamo avuto uno scontro nel nuovo mondo e poi incontrerà la sua fine finalmente con l'arrivo di Luffy interessante la storyline di Kaido ma ste corna che non ci vengono spiegate vabbè questa è una cosa che mi ha sempre fatto un po' rosicare vedremo se in futuro magari ci sarà qualche spiegazione aggiuntiva chi lo sa abbiamo poi il nostro caro Barba Bianca se l'infanzia di Kaido è misteriosa quella di Barba Bianca ancora di più non perché ci siano dei misteri ma perché sappiamo veramente poco sappiamo solo che Barba Bianca nasce 72 anni fa a Sphinx un'isola del nuovo mondo isola che in questo momento per intenderci è sorvegliata da Marco Barba Bianca nasce in quest'isola un'isola troppo povera per entrare a far parte del governo mondiale e diventa molto presto un orfano anche lui quindi inizia a prendere il mare da molto molto giovane a differenza dei suoi colleghi Barba Bianca scusatemi Kaido e Big Mom non sappiamo effettivamente se avesse una taglia da bambino è assolutamente plausibile perché da quello che vediamo sembra essere molto forte fisicamente a prescindere del suo frutto del resto sappiamo poco del resto sappiamo veramente poco perché circa 44 anni fa anche lui almeno 44 anni fa entra a far parte della ciurma dei Rox vengono poi sconfitti ovviamente dalla ciurma di Roger 39 anni fa nelle venenti di God Valley e poi inizierà a formare la sua ciurma qui le informazioni sono ancora meno nel senso che non sappiamo chi sia stato il suo primo compagno molti ipotizzano Marco ma in realtà non si sa a un certo punto 30 anni fa incontrerà Oden che è un altro dei compagni simbolo un po' di Barba Bianca tra l'altro la ciurma di Barba Bianca nel momento in cui incontrano Oden non era ancora la vera e propria ciurma degli imperatori come lo conosciamo perché Barba Bianca un paio di anni dopo letteralmente due anni dopo decide di adottare questo metodo di divisione della ciurma che noi conosciamo molto bene la ciurma di Barba Bianca ovvero le classiche divisioni con il primo secondo terzo comandante e così via spesso volentieri Oden ci ha specificato che in realtà il numero di divisione non c'entra niente con l'importanza perché il sogno di Barba Bianca era proprio quello di avere dei figli e ovviamente non si fanno figli e figli astri Oda ci dice che il quattordicesimo membro della flotta di Barba Bianca ha la stessa importanza dei primi numeri c'è anche da dire che va bene Oda questa paraculata però allo stesso tempo i primi numeri di flotta comunque di divisione sono quelli più forti sempre di fatti Marco è sempre stato il primo comandante anche Ace è stato in numeri altissimi Oden eccetera 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 basta questo sappiamo solo questo praticamente di Barba Bianca poi incontreranno ovviamente Roger Oden entrerà a far parte della ciurma di Roger per un breve periodo e così via non sappiamo altro una cosa che sappiamo è anche il suo funzionamento del business della pirateria di fatti era una ciurma estremamente ricca Oda ci suggerisce in dell'SBS che Barba Bianca controllava moltissime attività commerciali come addirittura ristoranti ci viene anche detto infatti che Barba Bianca riusciva ad accumulare tantissimo tesoro che però lui non interessava perché come abbiamo detto il suo sogno era quello di creare una famiglia e moltissimi dei soldi che ha guadagnato Barba Bianca nella sua carriera pirata sono stati spediti a Sphinx ripeto un'isola molto povera che al momento è protetta da Marco la Fenice e queste sono le pochissime informazioni che abbiamo su Barba Bianca purtroppo non ne avremo altre perché secondo me non c'è niente da dire su questo pirata ancora però sono molto poche per esempio non sappiamo quando si piglia il Gura Gura se ce l'aveva già durante la sua carriera nella sciurma di Roxx se lo prende anche lui a God Valley come per esempio Kaido queste informazioni per ora non ci sono date da nessuna parte né dall'SBS né dal canone quindi della storia principale poi c'è Barba Nera ragazzi io so già che molti di voi erano interessati alla sua storia ma in realtà rimane estremamente misteriosa Barba Nera nasce 40 anni fa in un'isola non specificata della Grand Line comunque secondo Saturn e anche Caterina Devon e probabilmente anche Van Ogher in generale secondo anche i suoi comandanti titanici nasce da una dinastia particolare secondo traduzione inglese si utilizza proprio la parola al termine Bloodline quindi proprio dinastia probabilmente quindi le particolarità di cui parleremo di Barba Nera non sono derivate dai frutti o da altre cose ma proprio da uno stato con cui lui nasce in poche parole all'età di 12 anni incontra i Pirati di Barba Bianca e dagli 0-12 anni non abbiamo nessunissima informazione molto probabilmente era un orfano ma veramente non si sa cioè non viene mai accennata questa cosa viene accettato nei Pirati di Barba Bianca ed è lì che si fa tutta la sua carriera in realtà sembra proprio che già da ragazzino durante quei 12 anni lì avesse scoperto dello Yammy Yammy quindi conoscesse questo frutto e per lui viene un po' ci fa di intendere che entrare nei Pirati di Barba Bianca fosse proprio un modo per avere più possibilità di incontrare un giorno nella sua vita quel frutto lì proprio quello chissà perché ancora non si sa assolutamente niente fa una carriera nei Pirati di Barba Bianca molto tranquilla in One Piece in One Piece Novel A quindi la Novel dedicata ad Ace quando vediamo che Ace incontra i Pirati di Barba Bianca vediamo che comunque Teach non è un membro emarginato o che già sembrava che complottasse anzi era un membro molto stimato della ciurma di Barba Bianca molto amico di Touch nessuno si sarebbe aspettato tutto quello che ha fatto a un certo punto quando Touch trovò lo Yammy Yammy secondo alcuni Touch addirittura mangiò questo frutto Barba Nera decise di ucciderlo e avere questo frutto per poi iniziare a formare la sua ciurma con i primi quattro membri quindi Van Ogher Jesus Bargis Lafitte e Doc Q poi ci sono tutti gli eventi che conosciamo questa è la backstory di Barba Nera cioè nulla il nulla più totale se ci sono dei personaggi che richiamano un flashback cioè Barba Nera è quello che lo richiama più in assoluto cioè perché lui voleva proprio quel frutto lì ora la cosa secondo me si è fatta ancora più interessante negli ultimi anni perché l'interesse anzi negli ultimi anni negli ultimi mesi in realtà l'interesse del frutto Yammy che ha sempre avuto Barba Nera in molti l'hanno vista in questo modo ovvero lo Yammy magari è la chiave per mangiare più di un frutto del diavolo sembra che non sia così perché a quanto pare Barba Nera lui può avere due frutti del diavolo a prescindere dello Yammy Yammy una prova della sua stranezza oltre ovviamente alle parole di Saint Garcia Saturn e appunto uno dei suoi comandanti titanici è il fatto che secondo Shanks e Buggy che lo hanno incontrato da giovani nella scontro tra ciurme è venuto tra i pirati di Roger e i pirati di Barba Bianca sembra secondo quello che si dice in giro che Barba Nera non abbia mai dormito un giorno della sua vita difatti quando Oda ci presenta la foto di Barba Nera da giovane un disegnetto che ha fatto in un SBS vediamo proprio Barba Nera che piange guardando alla luna come se questa condizione fosse una vera e propria maledizione in un certo senso fine questa è una cosa che comunque avviene quando è molto giovane cioè tra i 12 e i 20 anni quindi il doyami yami o se lo sognava capite questa cosa rimane comunque un vero e proprio mistero l'unico personaggio al momento in One Piece che è riuscito a mangiarsi due frutti del diavolo Buggy è l'ultimo imperatore di cui andremo a parlare in questo video ragazzi Buggy nasce anche lui secondo un SBS e da qualche parte nella Grand Line 39 anni fa per intenderci linea temporale io non voglio dire nulla non voglio dare suggerimenti ma Buggy teoricamente nasce un anno prima gli eventi di God Valley e poi mi taccio perché in realtà a differenza del suo collega Shanks non abbiamo informazioni che legano Buggy a God Valley neanche lontanamente quindi non dico assolutamente nulla l'unica cosa che sappiamo di Buggy non sappiamo se fosse un orfano come è entrato nella ciruma di Roger dove l'hanno trovato perché come mai sappiamo che a un certo punto diventa mozzo e apprendista della ciruma di Roger punto durante la sua carriera da mozzo nella ciruma di Roger ingoierà per sbaglio il frutto bara vara no mi per colpa di Shanks in realtà e acquisirà appunto i poteri di questo frutto del diavolo dopo la morte del capitano Roger Shanks chiederà a Buggy di unirsi alla sua ciruma ma Buggy scopriamo solo negli ultimi anni è delusissimo dalle parole di Shanks che non è assolutamente intento a cercare il One Piece decide di non accettare reputa tra l'altro questa cosa un vero e proprio tradimento e se ne va se ne va creando la sua ciurma di pirati una ciurma che richiama un po' il mondo del circo essendo comunque Buggy un clown e inizia la sua carriera mediocre da pirata che poi ce lo farà ritrovare ad Orange Town a inizio dell'avventura di Luffy e basta questo è quello che sappiamo di Buggy della sua backstory guarda questa è una cosa che voglio far notare Buggy è il personaggio di cui sappiamo di meno in assoluto cioè in questo video Buggy è quello meno discusso perché non sappiamo nulla quindi anche lui secondo me merita qualcosina in più e il video si conclude qua voi mi direte ma c'è ancora Luffy Luffy lo tengo per un altro video state sereni io ragazzi spero di essere stato chiaro e spero di avervi tirato fuori qualche cosina che non sapevate o che vi eravate dimenticati mi raccomando come sempre fatevi bravi e magari consigliateci anche sotto nei commenti quale video dovrei fare come prossimo video lore quindi magari parlare della lore di altri personaggi di altre cose che hanno fatto in passato voi comunque fatemelo sapere noi ci vediamo prestissimo come sempre con altri video a tema One Piece mi raccomando fatti bravi e niente ragazzi ci vediamo